È una competizione a livello nazionale nel settore della barberia italiana. Avremo ospiti a livello nazionale come Nando Quaranta, Mario Peccennini, i stilisti italiani, con il mio collaboratore che tra l'altro Rino Palumbo fa parte della nostra Accademia e che è un campione del mondo in assoluto. La prima giornata, che è il giorno 7 di domenica, la giornata verrà dedicata prevalentemente alle competizioni. Il lunedì ci saranno gli show dove si esibiranno gli stilisti italiani, Mario Peccennini, Nando Quaranta e alcuni ragazzi che verranno selezionati a seconda del loro lavoro che hanno consegnato. È una gara a punteggio e voglio sottolineare che è il primo evento federale dove intanto i nostri giudici sono tutti giudici selezionati e hanno preso il patentino come giudici federali. Abbiamo speso molto tempo e molto denaro nel comprare dei programmi per evitare ogni forma di imbrogli che spesse volte succedono. Ci saranno premiazioni, ci saranno omaggi, tutto quello che c'è. Veramente, insomma, abbiamo speso tanto per organizzare questo evento. L'abbiamo dedicato tutto il nostro tempo, le nostre giornate, nel cercare di organizzare nel migliore modo possibile l'evento. Il 7-8 aprile, nella splendida cornice di Isola delle Femmere, presso l'hotel Sarece, Palermo.